Passato il weekend elettorale ci si torna a concentrare sui problemi di ogni giorno, in particolare il caro Bollette che rischia di innescare anche una ripresa o meglio un rafforzamento del rischio di usura di questo odioso fenomeno che mette a rischio non soltanto la parte economica ma anche la parte legale della nostra attività in famiglia e nell'impresa. Alle prese con le Bollette dunque c'è questa nuova sentinella che va tenuta accesa sulla recrudescenza di questo fenomeno. Ne parliamo con Marina Moretti che oggi ha proprio approfondito questo argomento per noi. Buon pomeriggio Marina. Sì direttore buongiorno, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo davanti all'associazione Codici a Pescara perché abbiamo cercato di capire anche quale sia il rischio dell'indebitamento già complesso di tante famiglie dovuto al caro Bollette. Insomma se anche con i costi aumentati legati all'energia che sia gas o che sia energia elettrica le famiglie possano rischiare di indebitarsi ancora di più e addirittura in qualche caso di ricorrere agli usurai. E quindi siamo venuti all'associazione Codici per chiedere al presidente Giovanni D'Andrea se questo rischio è effettivo, se hanno già contezza. Ma voglio anche dire che, e ascolteremo fra poco l'intervista a D'Andrea, voglio anche dire che nello speciale poi di questa sera ci sarà anche uno spazio dedicato proprio a come si legge una bolletta. Ce lo siamo fatti spiegare dalla responsabile delle conciliazioni dell'associazione Codici Ciriega di Prospero che ci ha detto un po' nel dettaglio anche quali sono i trucchi, quali sono le cose a cui dobbiamo badare per leggere una bolletta e soprattutto per capire se stiamo consumando il giusto ed eventualmente cosa possiamo fare per leggere meglio le nostre bollette. Molti di noi non lo sanno fare e molti non sanno neanche che esiste anche un sito, un portale su cui magari andare a vedere chi in quel momento offre contratto migliore. Bene, vi spiegheremo queste cose nello speciale di questa sera, intanto però parliamo con il presidente D'Andrea del rischio di usura. L'intervista e poi ci salutiamo Carmine. Da qualche mese a questa parte le richieste di finanziamenti di mutui per pagare le bollette sono aumentate di piccoli prestiti, non parliamo di finanziamenti ad alto livello ma di piccoli prestiti sono aumentate non solo ma vengono qua cittadini che non riescono a pagare le bollette perché sono triplicate, in qualche caso quintuplicate sia quelle del gas sia quelle della luce e anche quelle dell'acqua. Quindi viviamo un periodo, ma d'altronde questo è risaputo, non lo devo dire io, viviamo un periodo di grossa crisi e per il futuro forse sarà ancora peggio. Ci sono delle grosse speculazioni perché i prezzi, è vero che vi è una guerra in atto in Europa, in Russia, in Ucraina, però è anche vero che i prezzi sia del petrolio, delle forniture di petrolio che delle forniture di gas erano già calmirati dai vari contratti che si sono fatti anni e anni fa e quindi la speculazione è la prima fonte di questi aumenti e che cosa ne consegue? Che una larga fascia della popolazione è costretta purtroppo a rivolgersi anche agli usurai, vi sono usurai locali, vi sono usurai organizzati, naturalmente la maggior parte delle richieste che noi abbiamo qui nella nostra associazione sono per il sovrindebitamento, cioè la gente difficilmente viene a denunciare l'usura, in parte perché hanno paura degli usurai e in parte perché sono cose così delicati e non vogliono metterle così in piazza, non vogliono nemmeno venire in associazione a raccontare questi fatti, però vi è il sentore, qualcuno anche sotto voce, mormora che è stata costretta a rivolgersi agli usurai. Ora lo Stato dovrebbe attrezzarsi in questo periodo di grave crisi, in questo periodo eccezionale, lo Stato dovrebbe mettere in atto misure eccezionali.